Ciao amici, come state? La settimana scorsa sono stata super impegnata per tenere un corso sull'Ayurveda, una disciplina che adoro. Chi la conosce? Io, io la conosco questa disciplina. Rispondete al sondaggio che trovate nella scheda cliccabile dalla i qui sopra e ditemi se volete un video dedicato. Per il clima invece sono in attesa dei primi freddi. Chi mi segue sa che io sono freddolosa, sempre vestita a strati. Questa è una mia caratteristica in ogni stagione. Almeno qualcuno di voi mi capisce? Adesso il tempo è ballerino. Un giorno fa freddo e piove, il giorno dopo sembra di essere in primavera. E da voi com'è? Anche qui, Simona, io non so più che pesci pigliare. Dovrei prendere un squaletto, dice. Ho io il video giusto allora. Come stare bene in autunno? Se vi piace. L'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Condivido con voi la mia night routine antistress per quando ho avuto proprio una giornata di M. A me capita di continuo, guarda, diventerà la mia routine preferita. Vi faccio vedere come fare la versione sana di uno dei dolci più ingrassanti di sempre, che inizia con la N. È una crema spalmabile? Già, vediamo come farla in casa con ingredienti sani ma buoni per salvare gusto, linea e salute. Vediamo i miei migliori snack. Brucia grassi, gli spezzafame che non fanno ingrassare, anzi come dire miracolosi. Più che altro trendy e sani con Simona Vignali. Voglio condividere una notizia importante che farà contenti i tanti amici di sesso maschile che mi seguono. Non fate come il marito di una signora a cui ho fatto una consulenza. Praticamente quando lei ha scoperto il mio canale non vedeva l'ora di tornare a casa dal lavoro e si metteva lì a guardare un video dopo l'altro sul tablet tutte le sere finché il marito le ha detto così. Mi ha fatto morire da ridere. Dicevo, la notizia per i signori uomini è questa. Novembre è nel mondo il mese della sensibilizzazione globale per i disturbi della prostata e dell'apparato riproduttivo maschile. Lo sapevate? Di questi argomenti non è sempre facile parlare ma c'è un'iniziativa simpatica che quest'anno voglio condividere con voi. Il nome è in inglese e si chiama Movember. Volevi dire November? No, si chiama proprio così Movember. Inizia con mo che viene da mustache, baffi e anche move cioè muovere, fare qualcosa di concreto. Tutto nasce nel 2003 in Australia quando due amici Travis e Lou hanno deciso di usare i baffi al tempo non proprio di moda per attirare l'attenzione delle persone e creare conversazioni sul tema del cancro alla prostata. Scusa ma cosa c'entrano i baffi con i seri problemi maschili? C'entrano e come ma ve ne parlerò quando saremo più vicini al mese di novembre quindi stay tuned. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale è facile basta un click così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i miei video. Come sempre condividete questo video con i vostri amici e sui social facciamo grande il canale insieme nei commenti scrivetemi le vostre esperienze. Io vi aspetto al prossimo video naturalmente. Ciao!